Ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia a Taranto, vittime questa volta due genitori. Il grave episodio si è consumato nella borgata di Talsano. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagna di Taranto hanno arrestato nella fraganza dei reati di maltrattamenti in famiglia e distorsione un disoccupato 23enne tarantino con piccoli precedenti alle spalle. I militari, transitando in una via del rione tarantino, attirati da delle urla provenienti dall'interno di un'abitazione, sono intervenuti per accertare cosa stesse accadendo. I carabinieri, dopo aver riportato la calma, hanno accertato che il 23enne, con il fine di ottenere denaro, stava minacciando e percuotendo i genitori. Le forze dell'ordine intervenute hanno quindi ricostruito che il giovane, nell'ultimo periodo a più riprese, avrebbe tramite violenze consistite in percosse, lesioni e minacce, costretto i propri genitori conviventi ad allargirgli somme di denaro finalizzate presumibilmente all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui farebbe uso. A seguito dell'intervento dei militari, i genitori hanno trovato il coraggio di denunciare l'accaduto permettendo così di ricostruire il drammatico contesto familiare in cui erano costretti a vivere. Il 23enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia continuati e distorsione e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.